Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi parliamo di donne nei campi STEM, ovvero donne nella scienza, per semplificare moltissimo. È un discorso molto ampio e complesso e che non penso di poter fare da sola, quindi con me oggi ci sono un sacco di ospiti che incontrerete più tardi. Detto ciò, inizierò questo video con una spiegazione, diciamo, di tutto il fenomeno, di come funziona, quali sono le problematiche, perché ci sono ancora così poche donne nei campi scientifici e poi ascoltiamo un po' di esperienze, che penso sia molto più rilevante e molto più interessante. Questa è la Tiffany del futuro, che dopo aver montato tutto il video si accorta che un video di 5 ore forse è davvero un po' difficile da digerire. Per questo verrà diviso in più parti, in modo che possiate, insomma, godervi un po' di più i racconti delle ragazze. Quindi, insomma, oggi vedrete la prima puntata e poi nelle prossime settimane vedrete anche il resto. Il percorso che faremo oggi sarà davvero quello di toccare un po' con mano la situazione attuale, perché penso sia molto importante, senza passare da tutti gli accenni storici che riguardano questo argomento, perché penso ci siano video già molto completi e con una visione molto molto completa, ma quello che interessa a me in questo momento è indagare il presente, cioè a che stato siamo, dove siamo arrivati. Innanzitutto parto anche dalla definizione, perché non tutti sanno cosa significa la sigla STEM. STEM, in inglese, è ovviamente un acronimo che raccoglie l'inizio di queste parole. Infatti sono le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Quindi STEM non è altro che una sigla per Science, Technology, Engineering and Mathematics. Perché è importante parlare di donne nei campi STEM? Perché il numero di donne in questi campi è estremamente ridotto, rispetto ovviamente a un corrispettivo di altro genere. Quindi parlare ancora di donne in questi campi e quali sono le loro problematiche è tuttora rilevante, perché è importante cercare anche in questi campi di raggiungere una parità. Nell'Unione Europea noi siamo tra i paesi fanalino di coda per numero di laureati in materie scientifiche. Parlerò di scientifiche per non ripetere sempre la sigla STEM, però capitemi. Oltre che ovviamente in coda ad ogni classifica per numero di donne laureate in queste materie, con un titolo di studio già alla mano. Sicuramente è stata abolito da tempo anche la convinzione che le donne abbiano una predisposizione per altri campi e che invece non lo siano per materie scientifiche. Ci abbiamo messo un po' ma per fortuna ci siamo arrivati. E sicuramente alle ragazze che si approcciano alle materie STEM, sicuramente non mancano le competenze. Eppure in Italia ancora si fa una grande fatica a considerare una donna scienziata. Per tante categorie o non esistono nemmeno le declinazioni del termine al femminile o in tantissimi casi vengono del tutto steggiate. Un caso su tutti, ad esempio, è la parola ingegnere, che è maschile. Ma solo a sentire la parola ingegnera qualcosa ci fa strano. Soprattutto in ambito accademico, ma ancora molto spesso in ambito lavorativo generale, i posti di rilievo, i posti dirigenziali, insomma, quelli occupati da donne, constano meno del 30% in moltissimi casi. E anzi, rimangono sempre una ristretta minoranza. Eppure tutti i dati ci dicono che la parità di genere, soprattutto nelle materie scientifiche, è un elemento funzionale allo sviluppo economico e al benessere di tutti i cittadini. Le spiegazioni per una scarsa rappresentanza delle donne in questi ambiti, diciamo, sono molteplici e noi possiamo riassumerle in questo modo. In primis, e forse chiaramente come tema più evidente, la mentalità, le strutture culturali e sociali che assumono i ruoli di genere. Quindi, banalmente, pensare alla donna come scienziato è ancora complicato. In più la mentalità, insomma, la struttura sociale, porta a incanalare le donne verso certi ruoli e non verso gli altri. Quindi, discriminazione e stereotipi sono sicuramente altre cause molto pressanti. Discriminazioni che noi possiamo trovare in moltissimi aspetti, sia lavorativo che personale, e che tuttora sono estremamente pressanti. Poi ci sono due effetti molto particolari, uno è l'effetto pecora nera e l'altro è l'effetto queen bee, ovvero sono due risvolti che poi giù nell'infobox trovati link a tutto ciò di cui parlo oggi, come sempre mi sono scordata di dirlo all'inizio, però in pratica dove per i comportamenti del singolo ci sono delle ripercussioni su tutta la categoria, o comunque così vengono intesi, che sono ovviamente due effetti prodotti di un meccanismo di controllo, chiaramente. In più, sicuramente tra le cause non può mancare la mancanza di un tutoraggio, e quindi di un sopporto scolastico, ma anche la mancanza di un sopporto familiare. Tra le cause non mancano anche numerosi episodi ed esperienze legate alle molestie, e forse per ultima possiamo annoverare anche la mancanza di ruoli di riferimento, di modelli ai quali aspirare e ai quali ispirarsi. C'è anche questa sorta di modello a imbuto, no, tradizionale nel nostro percorso scolastico, che tende ad incanalare le donne, come già vi dicevo anche prima, verso la specializzazione nei campi umanistici e sociali. Perché c'è questa convinzione, purtroppo ancora molto radicata, in fasce della popolazione tendenzialmente più anziane, dove le donne vanno bene per quello. I dati che abbiamo raccolto nel corso degli anni, secondo me ci fanno davvero riflettere sull'enorme potenzialità che ancora non siamo riusciti a cogliere. Dove ancora troppo spesso ci sono condizionamenti molto pesanti, sia in famiglia che anche in ambito scolastico, per non parlare poi di modelli esterni, che ancora mancano o sono davvero troppo pochi, per riuscire davvero ad aumentare il numero di donne che si dedicano ai campi STEM. Fate conto che nel mondo le donne che studiano o sono impiegate in lavori riguardanti questi campi sono solamente il 28%. Se pensiamo proprio alla questione dei modelli, effettivamente, e ci dobbiamo fare venire in mente qualche donna che è un modello di riferimento per qualsiasi ragazza che si vuole approcciare alle materie scientifiche, non sono tantissimi i nomi che ci vengono in mente. Penso a Marie Curie, penso a Rita Levi Montalcini, penso a Margherita Huck, a Dada Lovelace, e se parliamo invece di tempi più recenti, ci sono forse due figure che chiunque di noi, spero, abbia nell'immaginario, una è Samantha Cristoforetti e l'altra è Fabiola Giannotti, direttrice del CERN, tra l'altro l'unica persona al mondo a essere riconfermata per ben due volte. E quello dei modelli è effettivamente uno dei problemi più gravi e uno dei problemi che più incidono sulla, diciamo, sull'affacciarsi alle materie STEM anche per le ragazze. Quello dei modelli in più è stato anche un problema per un ulteriore motivo. Moltissime donne hanno partecipato a numerose ricerche in tutti i campi scientifici, da quello matematico a quello della fisica a quello della scienza e della ricerca fino ad arrivare all'ingegneria. Hanno spesso delineato addirittura i percorsi delle ricerche, hanno svolto la manovalanza vera, insomma, hanno veramente fatto loro il lavoro, hanno smazzato il lavoro a quello che si fa di sottofondo, quello quotidiano, quello duro. Poi però, al momento della pubblicazione di numerose ricerche, di numerosi progetti e lavori che sono stati fatti in collaborazioni, i loro nomi sono stati cancellati con la gomma magica e il loro contributo è stato completamente eliminato in favore degli uomini. Questo è successo numerose volte. Giù nell'infobox trovate parecchi casi che riguardano proprio queste storie. È stato un lavoro molto lungo, soprattutto quello di ammissione di queste pratiche, ma finalmente si iniziano a vedere dei risultati. Ma è abbastanza? Possiamo dire che le donne non devono affrontare alcun ostacolo, non subiscono né pressioni, né discriminazioni, soprattutto legate al proprio genere? La risposta ovviamente era no, ma questo era abbastanza facile. Siamo ancora ben lontani dall'ontenere un completo riconoscimento e una valorizzazione adeguata del lavoro di migliaia e migliaia di scienziate. Quindi siamo davvero ancora tanto lontani da quello che è l'obiettivo primario, cioè la gognata parità, all'interno dei campi STEM. Addirittura ci sono scienziati che pur vedendo i dati, e sono episodi di qualche anno fa, non troppo, addirittura cercano di sostenere che le donne sono privilegiate, hanno delle corsie privilegiate all'interno di questi ambiti e infatti si vedono tutti i risultati. Ma voi non mi credete? Quindi ne parliamo fra poco, con i dati alla mano. C'è ancora poi tantissimo bisogno di lavorare al fine di stimolare l'interesse fin dai primissimi anni per questi ambiti, soprattutto in Italia. Combattere gli stereotipi, formare degli insegnanti che riescano soprattutto a trasmettere la passione e a sostenere le figure di ragazze che si vogliono avvicinare a questi ambiti. Quindi innanzitutto per incoraggiarle e poi a perseguire le loro carriere nei campi STEM. C'è bisogno di sviluppare dei programmi adatti alle esigenze e sensibili alle questioni di genere. C'è bisogno di molte più figure di mentori, di studentesse e giovani donne, in modo che si possa cambiare in primis dentro di noi la nostra mentalità e poi anche all'esterno. Tra l'altro i ricercatori hanno messo nero su bianco una ricerca che trovate anche questa giù nell'infobox dove è stato assolutamente confermato un pregiudizio valutativo generale di professori e mentori uomini nel valutare e in generale nei confronti delle donne. L'atteggiamento che hanno le ragazze nei confronti dei campi e delle materie STEM è fortemente influenzato dall'ambiente familiare, ovviamente, in particolare dal nucleo più stretto, quindi dai genitori. È stato dimostrato che i genitori appartenenti alle fasce socio-economiche più elevate tendono ad avere un atteggiamento più positivo nei confronti delle ragazze che si avvicinano ai campi STEM e comunque in generale a favore dell'istruzione di questi ambiti. Mentre negli strati sociali più bassi avvengono due fenomeni completamente opposti. Le ragazze che sono immerse in contesti dove il maschilismo e la disparità di genere sono in contesti dominanti tendono a vedere le materie scientifiche come il modo perfetto per innanzitutto dimostrare il loro valore e soprattutto anche emanciparsi e quindi poter essere indipendenti economicamente vedendo proprio in queste materie la principale risorsa per potersi emancipare innanzitutto dalla famiglia e dal proprio nucleo familiare e per riuscire quindi anche ad elevarsi socialmente conquistando un nuovo benessere. Mentre in altri casi l'atteggiamento è l'esatto opposto ovvero famiglie molto immerse in una cultura maschilista e tendenzialmente discriminatoria nei confronti delle donne scoraggiano gli studi scientifici mantengono una sorta di status quo dove la visione di una donna in questi campi è praticamente impensabile quindi finiscono per scoraggiare impedire la realizzazione di queste ragazze in ambiti che magari sono adatti a loro e nei quali sono portate soprattutto proprio perché molto spesso le capacità non mancano e quindi non trovando un supporto adeguato anche all'interno del nucleo familiare stesso abbandonano lo studio o non si sforzano nello studiare con il massimo dell'impegno e quindi si dirottano su altro in Italia stando allo studio europeo e European Girls in STEM che è stato realizzato in collaborazione con la London School of Economics e una serie di altri agenti è stato rilevato che l'interesse delle ragazze italiane per queste materie nasce attorno agli 11 anni per poi calare in una maniera anche abbastanza drastica attorno ai 17 diciamo che è proprio quel momento in teoria dove è più importante perché attorno ai 17 anni si avvicina al momento della scelta universitaria quindi della scelta del proprio percorso di vita ciò significa che i governi i genitori e gli insegnanti hanno un lasso davvero molto breve di tempo per poter cercare di sostenere valorizzare e intervenire proprio perché la scelta del percorso scolastico sia a supporto di queste predisposizioni di queste capacità e riesca quindi proprio a fornire il supporto adeguato a queste ragazze per poter proseguire i propri percorsi di studi e poi un giorno ovviamente avviare la propria carriera nei campi scientifici c'è proprio questo specchietto di 4-5 anni solamente prima che le scelte diventino più o meno definitive un dato molto positivo in realtà perché abbiamo parlato sempre male del nostro paese però ci sono invece dati molto positivi e incoraggianti infatti è proprio che l'Italia si posiziona nei primi tre posti in Europa per interesse rispetto alle materie scientifiche informatiche avviene però qualcosa nelle fasi successive una sorta di intoppo sia sistemico che culturale che pur migliorando sempre di più perché ogni anno abbiamo dati sempre più positivi continua a mantenere le quote sia di studentesse che di lavoratrici poi ancora troppo basse rispetto al corrispettivo maschile e quindi c'è uno sbilanciamento sempre in sfavore delle donne ad un summit chiamato SIOS 2019 è stata presentata una ricerca che fa proprio da fotografia dello stato attuale delle cose è basata su dati rielaborati da fonti diverse c'è Alma Laurea Eurostat ci sono dei dati rilevati da The Lancet che è una rivista scientifica inglese insomma questa ricerca presentata ha davvero approfondito e ha poi fotografato un po' la situazione delle differenze di genere tra i laureati in disciplina e STEM le quote di ragazze iscritte nel 2018 perché i dati sono stati presentati l'anno scorso sono chiaramente leggermente diversi quest'anno chissà cosa sarà l'anno prossimo vabbè comunque le quote di ragazze iscritte nel precedente anno accademico ai corsi di laurea in materie STEM in discipline STEM è il 17,7% che è il dato più alto di tutti gli ultimi anni e i dati sono anche molto sorprendenti anche se secondo me non lo sono poi così tanto visto quello che vi ho anche detto prima al sud addirittura la quota sale al 19 come media raggiungendo il suo record in Abruzzo dove è il 20% che sì sono dati migliori però come vedete siamo sotto il 30% di cui vi parlavo prima un altro dato secondo me molto interessante da sottolineare è che questa quota sale al 28% quando si tratta di ragazze non italiane iscritte ai vari Atenei quindi diciamo che tra chi non ha la cittadinanza ancora perché sappiamo come è fatto il nostro ordinamento e anche dalle ragazze che provengono da paesi stranieri la quota è più alta rispetto alla media delle ragazze italiane in Italia solo 12 donne su 1000 si laureano in discipline STEM e il loro stipendio di media è già inferiore rispetto a quello dei ragazzi già nell'ingresso nel mondo del lavoro nel 2018 hanno conseguito la laurea in discipline STEM 16.848 ragazze e 26.202 ragazzi mentre hanno ottenuto un titolo magistrale 11.400 donne circa e 17.600 uomini quindi in totale nel 2018 si sono laureati in discipline STEM circa 28.300 ragazze e 43.800 ragazzi rispetto a 15 anni fa la situazione è progressivamente ma anche notevolmente migliorata oggi abbiamo circa 16.000 ragazze laureate in discipline STEM all'anno contro le 3400 circa del 2004 ed è chiaramente una delle crescite più tangibili di tutto il comparto universitario italiano di media poi è bene notare che le ragazze che si laureano in discipline STEM lo fanno tendenzialmente con voti più alti e quindi con risultati migliori il voto medio di laurea è più alto anche se di pochissimi punti ma è una costante nel tempo infatti la media è 103,6 su 110 mentre per gli uomini è 101,6 dimostrano anche una maggiore regolarità negli studi infatti nel 2017 il 46,4% delle ragazze ha terminato il proprio corso di studi nei tempi previsti contro invece contro invece il 42% degli uomini ed è vero che molti staranno pensando in questo momento ma lo fanno perché i professori danno voti più alti alle ragazze ma questo non è assolutamente vero e anzi è stato dimostrato esattamente il contrario da una serie di studi anche questi che vi linko giù nell'infobox prima che arrivino nei commenti a un anno da una laurea in ingegneria è stato però dimostrato che meno della metà delle ragazze laureate ha un contratto stabile contro invece il 57% degli uomini il divario si riflette anche nelle fasi successive nel divario retributivo soprattutto quelli di fascia alta nei 5 anni successivi alla laurea se ci basiamo sui dati di remunerazione attorno ai 3000 euro ci accorgiamo subito che la percentuale di uomini che guadagna più di una certa cifra ci rendiamo subito conto che la percentuale di uomini che guadagna fasce abbastanza alte di retribuzione sono esattamente il doppio delle quote femminili a 5 anni dal conseguimento della laurea il tasso di occupazione di chi si laurea in discipline STEM è di circa 89% che è quasi un 4,1% in più di chi invece studia altre materie tra gli uomini è pari al 92,5% mentre per le donne è circa attorno all'85 i contratti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzano il 55,6% dei rapporti di lavoro che hanno queste persone a 5 anni dalla laurea ma anche qua troviamo un divario di genere contro il 45,1% dei corrispettivi donna a questo si aggiunge un altro fattore che è quello della retribuzione del quale vi parlavo prima il gap esiste ed è stato dimostrato infatti su una media di guadagno a 5 anni della laurea per il corrispettivo maschile di 1699 euro guadagnati mensilmente chiaramente le donne ne guadagnano 1370 quindi gli uomini guadagnano il 25% in più delle donne tutti questi dati a testimonianza ancora una volta di quanto sia difficile per le ragazze accedere alle posizioni più ambite a farlo alle stesse condizioni dei colleghi uomini anche se di media si presentano ai colloqui con un curriculum migliore con dei voti più alti e avendo ottenuto dei risultati o avendo un'esperienza più ampia e fruttuosa dei colleghi tornando allo studio che vi citavo prima di European Girls in STEM la ricerca individua 5 fattori chiave che potrebbero influenzare concretamente la scelta delle ragazze verso queste materie e verso una carriera negli ambiti STEM la loro partecipazione a percorsi scolastici a sostenere la loro partecipazione lavorativa e il loro contributo lavorativo al mondo scientifico in primis e non a caso dispore di modelli di riferimento femminili visibili e riconosciuti nei campi STEM in secondo luogo aumentare il numero di esperienze pratiche durante il percorso scolastico dentro e fuori la classe quindi partecipare ad attività partecipare banalmente in laboratorio fare delle esperienze dove queste materie vengono toccate con mano 3 ricevere maggiore incoraggiamento e sostegno da parte degli insegnanti insegnanti che diventano dei veri tutor dei veri propri mentori delle ragazze 4 comprendere ancora meglio come applicare ciò che viene studiato all'interno delle materie STEM alle situazioni di vita comune e di vita reale dove queste materie sono presenti quindi capirlo proprio fin da molto giovani 5 avere una maggiore fiducia nel fatto che uomini e donne all'interno degli ambienti scolastici e di lavoro riceveranno in questi settori un trattamento paritario sono state messe davvero appunto numerose iniziative a sostegno delle donne nella scienza spesso sono tentativi ancora troppo deboli ma che stanno effettivamente iniziando a dare qualche frutto in fondo ci sono diversi obiettivi da ottenere ve ne illustro qualcuno innanzitutto favorire la partecipazione di ragazze alle attività di studio e di ricerca quindi di conseguenza diffondere in ambito scientifico e tecnico i processi di gender mainstreaming ovvero rendere visibili le donne come modelli di ispirazione quando sono presenti nelle ricerche abbattere a tutti i costi ogni stereotipo che vede le ragazze inadatte alla scienza facilitare un processo di empowerment grazie all'accesso a ruoli decisionali favorito proprio dalla maggiore autostima che le donne acquisiscono nell'affrontare carriera che prima ingiustamente o ingenuamente venivano considerate di pertinenza prettamente maschile in più bisogna valorizzare il punto di vista femminile non tanto in quanto femminile e non in quanto portatore di una serie di valori intrinsichi e naturali ma perché è una possibilità per fornire all'azione scientifica un nuovo impulso creativo nuovo partecipando alla definizione di obiettivi e proponendo percorsi di ricerca innovativi sarebbe anche interessante osservare in Italia giusto a chiusura di questo lungo discorso che faccio io osservare quanti in Italia nei campi stem e nelle università dove si studiano le discipline stem osservare quanto siano presenti le categorie ancora più discriminate all'interno della categoria discriminata ovvero le donne quindi tutte le ragazze anche di seconda generazione le persone disabili le ragazze disabili esistono davvero numerosi studi a riguardo delle categorie people of color e black insomma nelle esperienze americane negli Stati Uniti ma non ci sono ancora studi approfonditi in merito in Italia un po' anche perché come si è fatto anche fatica a far osservare insomma a far uscire la classe dominante sia a livello universitario quindi i rettori i professori i professori che hanno una cattedra di rilievo coloro che decidono e hanno ruoli dirigenziali all'interno dell'università ma anche nel corrispettivo invece lavorativo fuori dall'università dove ci sono insomma dirigenti d'azienda insomma noi sappiamo che in Italia queste categorie sono predominanti in maniera davvero molto sbilanciata che non include assolutamente la quota del 30% perché sono tutti uomini bianchi e di una certa età anche e ricercatori l'unica cosa che sono riusciti a rilevare sono discriminazioni sistematiche contro innanzitutto le minoranze etniche e le diverse etnie e anche in larga parte contro le ragazze che si avvicinano ai campi STEM i ricercatori hanno quindi trovato le prove i dati lo dimostrano di discriminazioni sistematiche contro le minoranze le minoranze etniche e contro le donne nello STEM rispetto ovviamente ad altri uomini caucasici in più apro una brevissima parentesi su un discorso da non sottovalutare ovvero la questione delle microaggressioni quotidiane e delle molestie l'ho tenuta come ultima innanzitutto perché è un discorso molto delicato da affrontare ma guarda caso in ambiti dominati da una classe dirigente o in posizioni di rilievo che praticamente vede le donne solo come quote da includere all'interno dei propri ambiti diciamo che non stupisce se questo è un discorso da fare è passato un po' di tempo ma nel 1993 il New England Journal of Medicine ha indicato che tre quarti delle studentesse sono state molestate almeno una volta nella loro vita durante la loro formazione medica e questa è una pratica che purtroppo con grande frequenza colpisce tutti gli ambiti scientifici tuttora nonostante siano passati diversi anni dal 1993 le molestie spesso sono state messe a tacere le microaggressioni come possono essere battute toccatine una presenza fisica un po' troppo ingombrante proposte inappropriate eccetera eccetera sono ancora oggi all'ordine del giorno per tante persone per fortuna qualcosa si sta muovendo anche se troppo lentamente e con troppi paletti però si cerca tuttora di favorire ambienti nei quali è possibile anche denunciare all'interno dell'università senza la paura di ritorsioni bene direi che io ho più o meno toccato tutti i punti che volevo toccare spero di avere delineato in maniera chiara quelli che erano i punti secondo me salienti della situazione attuale quindi quali sono le difficoltà quali sono i dati e quali sono anche le problematiche che ancora non vengono abbastanza fuori però visto che io avevo sei in matematica per il rotto della cuffia non sono proprio la persona più adatta a parlare di esperienza in prima persona non vi posso raccontare la mia esperienza quindi ci tenevo davvero tanto ad introdurvi alcuni punti che voglio toccare ulteriormente con questo video quindi dopo che abbiamo inquadrato la situazione correttamente le problematiche connesse la situazione attuale e quant'altro con tutti i dati ovviamente a supporto e ve lo ripeto trovate tutto giù nell'infobox oggi ho invitato un po' di persone qua a parlare con me perché penso sia molto più di valore raccontare la loro esperienza e far parlare direttamente queste ragazze perché penso sia di valore decisamente più alto che il mio sproloquiare quindi io spero che le ascolterete con grande attenzione io sono molto emozionata per questo video a cui ho lavorato tanto e il contributo delle ragazze è davvero secondo me prezioso dei livelli incalcolabili ma un po' perché anche io non so calcolare abbiamo davvero davanti a noi una schiera di ragazze formidabili con delle esperienze completamente diverse che lavorano in ambiti STEM molto diversi tra loro abbiamo degli ingegneri delle informatiche delle scienziate delle ricercatrici delle studentesse delle lavoratrici insomma quindi secondo me questa seconda parte sarà davvero il valore più grande di tutto questo mio sproloquio e anzi io porrò a loro qualche domanda e ascolteremo insieme le loro risposte quindi direi di iniziare con la prima domanda beh innanzitutto presentatevi insomma fateci sapere chi siete qual è il vostro campo e se siete studentesse lavoratrici insomma così vi conosciamo tutte ciao mi chiamo Amalia e sono una studentessa magistrale di astrofisica e cosmologia ciao a tutti sono Anna e sono una studentessa del dottorato dell'ultimo anno il mio background è in fisica sia per quanto riguarda la laurea triennale che con la magistrale il mio progetto di ricerca si è concentrato sul design e sviluppo di una stampante 3D ad uso farmaceutico e della creazione di una relativa libreria di materiali tutto questo per creare delle pastiglie con rilascio programmato dei farmaci seguendo le necessità del singolo paziente ciao stelle del cielo mi chiamo Benedetta e preguento un corso di laurea magistrale in chimica organica ciao Tiffany sono Chiara e sono una studentessa magistrale di ingegneria meccanica mi chiamo Elena sono neolaureata in ingegneria meccanica e ora sto continuando il mio percorso di studi però in ingegneria gestionale con la magistrale ciao mi chiamo Elisabetta e sono un ingegnere nucleare energetico lavoro in un centro di ricerca per il nucleare nel sud della Francia e io in particolare mi occupo di studi termoidraulici per i sistemi di sicurezza passivi nei reattori nucleari detta così sembra molto complicata in realtà semplicemente vuol dire che simulo il comportamento dell'acqua per vedere se bolle o se rimane liquida e quindi riesce a raffreddare effettivamente bene il reattore durante il suo funzionamento faccio questo per dei sistemi che sono detti passivi sono dei sistemi di sicurezza quindi per proteggere il reattore e sono passivi perché funzionano senza bisogno di elettricità né altri azionamenti meccanici semplicemente secondo le leggi della fisica ciao sono Esther e ho appena finito un dottorato in fisica e mi occupo dello sviluppo di rivelatori per radiazioni ionizzanti che sembra una cosa completamente impossibile e assurda ma in realtà è abbastanza semplice come concetto fondamentalmente prendiamo la tecnologia che viene utilizzata per realizzare le fotocamere e rielaboriamo alcuni aspetti in modo tale che queste fotocamere speciali non vedano più solo la luce ma anche le particelle cariche che sono un po' diverse ma sono abbastanza simili ma il concetto è abbastanza simile con queste fotocamere particolari io in particolare mi occupo di sviluppo di sistemi che poi vengono installati su dei satelliti e andiamo a misurare la radiazione nello spazio ci sono un sacco di cose che si possono scoprire da queste misure ma questo non è il mio lavoro il mio lavoro è semplicemente la preparazione dello studio lo sviluppo dello strumento sia del sensore proprio della fotocamera che anche poi lo studio su qual è il modo migliore per assemblare questi oggetti e poi la costruzione del sistema e i test del sistema ciao sono Federica ho 26 anni e sono un ingegnere dell'automobile mi sono laureata un anno fa in magistrale e al momento lavoro per un'azienda che fa componenti di sicurezza per le auto e sistemi di aiuto alla guida ciao sono Francesca ho un dottorato in scienze farmaceutiche e mi occupo attualmente di ricerca preclinica dei farmaci in pratica mi occupo di testare l'efficacia quindi se un farmaco funziona o meno su diversi modelli animali questo prima che il farmaco ovviamente possa entrare in commercio ciao a tutti io sono Giulia e sono un ingegnere biomedico innanzitutto vorrei ringraziare tantissimo Tiffany per aver lanciato questa iniziativa e per aver permesso a noi che facciamo parte comunque di un ambito che ancora oggi in realtà soffre abbastanza di disuguaglianze potremmo dire di dare un po' il nostro contributo e il nostro punto di vista e su questo mondo appunto il mondo STEM che coinvolge scienze tecnologia ingegneria insomma scienze matematiche tutti questi questi settori insomma appunto io sono un ingegnere biomedico e mi sono laureata ormai due anni fa sono sempre stata un'appassionata di ricerca sono sempre stata innamorata della scienza e proprio della ricerca pura e diciamo che però dopo la mia laurea un po' come tante altre persone mi sono spaventata all'idea di iniziare una carriera nell'ambito accademico proprio perché si sa un po' come è la vita da ricercatore in Italia poi avevo già avuto dell'esperienza all'estero e per questioni personali non volevo andare all'estero a lavorare e quindi diciamo un po' restia per queste ragioni decisi di iniziare a fare uno stage in un'azienda insomma biomedicale dopo questo dopo questa piccola esperienza mi sono accorta in realtà di quanto io sia appassionata veramente alla scienza e alla ricerca per cui sono ritornata indietro sui miei passi e ho deciso di applicare per un dottorato e quindi attualmente sono una dottoranda e sto lavorando nell'ambito dei nanomateriali per da utilizzare insomma come alternative alle terapie tradizionali contro i tumori quindi questo diciamo un po' il mio settore ciao mi chiamo Giulia ho una laurea trenale matematica e attualmente sto svolgendo un tirocinio formativo nell'ambito dell'analisi dei dati ciao a tutti sono Lisa ho 34 anni e sono una naturalista sin da piccola ho sempre saputo che la biologia o meglio la natura diciamo sarebbe stata la mia strada sono infatti diplomata in un istituto tecnico con indirizzo bioecologico sono passata una laurea triennale in biologia con indirizzo ecosistemico ho proseguito con una specialistica dal nome un pochino pomposo diciamo laurea in conservazione e gestione del patrimonio naturale e infine sono approdata diciamo ad un master in gestione della fauna selvatica ormai da nove anni lavoro come naturalista e cartografa in un'azienda della mia città in Emilia Romagna dove mi occupo principalmente di ecosistemi forestali cartografia tematica sempre in ambito ambientale e di retta natura 2000 che semplificando all'osso diciamo è un grosso progetto una grossa rete appunto gestita dall'Unione Europea di aree protette che sono dislocate sul territorio nazionale sia in aree pubbliche che in aree private dove ci si impegna a conservare specifiche specie di flora e di fauna e di habitat dove questi vivono ciao io sono Lucia sono una studentessa di ingegneria adesso sono all'ultimo anno di magistrale ho una triennale in ingegneria aerospaziale sto completando il corso magistrale in ingegneria meccatronica e adesso sono in America per fare un per un progetto di doppia laurea e sto frequentando un corso sarebbe ingegneria elettronica in questo momento e in il corrispettivo americano inoltre ho avuto un'esperienza di due anni in un team studentesco che ho poi interrotto l'anno scorso per iniziare questo percorso all'estero ciao Tiffany mi chiamo Martina sono laureata in biotecnologie e attualmente studio sto svolgendo i due anni della laurea magistrale ciao sono Martina ho 22 anni e sto per laurearmi quindi sono una studentessa in scienze forensi o meglio conosciute come scienze criminali sono Maria Grazia ho 30 anni e sono farmacista mi sono laureata ormai sei anni fa e lavoro da circa quattro anni e mezzo in una farmacia privata a Bologna ciao mi chiamo Piera e sono una studentessa di informatica allora ciao sono Rosa e non bevo da due seti no non è vero sono Rosa e sono laureata da qualche giorno in realtà in ingegnere aerospaziale crinale e continuerò in questo percorso con la magistrale e poi vedremo ciao sono Sara e sono una studentessa di informatica hai avuto una persona un modello di riferimento una scienziata che hai preso come modello che ti è in qualche modo ispirata a perseguire questa strada e questo campo di studi oppure invece una referenza che a te è mancata quanto riguarda l'appoggio e l'incoraggiamento nei confronti della mia scelta di intraprendere studi di tipo scientifico e la mia famiglia mi ha sempre sostenuta appoggiata quasi addirittura spinta in questa direzione quindi da questo punto di vista mi ritengo assolutamente fortunata e i miei amici più stretti mi hanno sempre incoraggiata e anche i miei professori e le mie professoresse da parte di alcuni conoscenti sono arrivati invece commenti che lasciavano intendere il fatto che magari non ce l'avrei fatta stavo intraprendendo un percorso più grande di me dove cazzo volevo andare a fare fisica come se mi fossi montata troppo la testa però per fortuna sono state una minima parte delle reazioni ecco alla mia decisione io mi posso ritenere una persona molto fortunata perché nella mia vita sono sempre stata circondata da donne molto forti in primis mia madre ma per quanto riguarda la mia scelta di intraprendere un percorso scientifico devo ringraziare due donne in particolare la prima è la mia professoressa di matematica e fisica del liceo la professoressa Cuccia lei con la sua grandissima passione curiosità intelligenza e soprattutto la sua enorme pazienza è riuscita a trasmettermi la passione per queste materie e a indirizzarmi verso questo percorso la seconda è la professoressa Scappa con cui ho lavorato in stretta vicinanza per dieci mesi durante il mio lavoro di tesi magistrale di nuovo un'altra donna dalla grandissima intelligenza passione e con un grandissimo cuore devo ringraziare entrambe queste donne per il loro contributo e per il fatto che io sia ora qui no non ho avuto alcun modello di riferimento in particolare che mi abbia ispirato in questa scelta piuttosto è stato durante il mio percorso di studi che sono venuta a contatto con professoresse e professori che mi hanno stimolato per un verso o per un altro non solo dal punto di vista prettamente scientifico ma anche e soprattutto dal punto di vista della coscienza civica indirettamente infatti hanno contribuito a costruire quel modello di persona che vorrei essere non soltanto dal punto di vista professionale questo è stato possibile perché la chimica in un certo senso una scienza a tutto tondo non impartisce solamente dei concetti ma studiare chimica è sinonimo di acquisire un ragionamento logico critico nei confronti di quello che ci circonda la chimica è porsi delle domande ragionare sui riperchetti determinati fenomeni scientifici o meno quello che intendo con questa reazione alla chimica è che me lo sono un po' costruito ad hoc il modello a cui mi ispiro per perseguire questo campo perché in sostanza non so se effettivamente voglia continuare per tutta la vita su questa strada non voglio essere fraintesa io amo quello che faccio ma la vita è imprevedibile di conseguenza per quello che so domani potrebbe presentarsi l'occasione della vita che non ha niente a che fare con concetti di tipo chimico ma che allo stesso tempo mi fanno impazzire perché non dovrei accettare ed è proprio su questa domanda retorica in un certo senso che si basa tutta la formazione di un chimico essere sempre pronti a nuovi problemi nuovi pesidi risolvibili grazie alla logica acquisita dallo studiare i perché della natura purtroppo non ho mai sentito parlare già nel campo ingegneristico ma da piccolo sono sempre stata ispirata da Rita Levi Montalcini perché è stata la prima scienziata donna di cui ho sentito parlare da bambina mi ha suscitato grande ammirazione per l'approccio che aveva avuto alla scienza e allo studio e allo studio in generale del suo campo ma anche in generale di come approcciarsi allo studio del mondo che ci circonda mentre ciò che mi ha ispirato personalmente a scegliere la mia facoltà e quello che sarà poi spero il mio campo di lavoro è stato che fin da piccola guardavo gare automobilistiche e gare motociclistiche con mio padre un altro meccanico provava sempre a spiegarmi il funzionamento per esempio di un frigo o di un motore o di una pompa e quindi ho portato avanti questa cosa del cercare di capire cosa c'è dietro gli oggetti comuni che ci circondano no non c'è stata alcuna figura di ispirarmi nell'intraprendere questo percorso essenzialmente è stata un'unione di predisposizione personale e anche gusti nei confronti delle materie però addirittura ad oggi probabilmente farei fatica a tirare fuori dei nomi di persone che potrebbero ispirarmi nel continuare il mio percorso quanto riguarda le figure femminili di riferimento penso innanzitutto a Marie Curie che è proprio nel mio campo di ricerca e di studi perché è la scienziata che ha scoperto la radioattività ma si è sempre trattato di una figura molto distante dal mio immaginario e dalla mia esperienza praticamente irraggiungibile e l'altra scienziata che invece era più vicina a me era Rita Levi Montalcini che ha dimostrato alla bambina che ero che anche una donna italiana poteva occuparsi di scienze e poteva diventare una scienziata Allora nella scelta di questa carriera in realtà non ho avuto modelli né maschili né femminili perché non è una cosa che avevo pensato programmato non è che da piccola sognavo di fare la scienziata per niente è una cosa che è accaduta passo dopo passo e questa cosa probabilmente un po' l'ho accusata in realtà recentemente mi è capitato di iniziare a lavorare con una professoressa molto in gamba che che si sta volta che è diventato un po' riferimento perché uno perché è una persona molto concreta c'è una persona con cui io lavoro con cui posso parlare con cui ho un bellissimo rapporto tra l'altro e la cosa che mi ha aiutato di più è stato il fatto di vedere che tante cose che io ritenevo impossibili in realtà sono possibili perché mi sono trovata davanti una persona estremamente competente estremamente preparata con una capace di gestire una posizione interessante dentro una collaborazione internazionale al stesso tempo capace di di farsi una famiglia e di una vita normale e questo mi ha molto incoraggiata perché per un sacco di tempo ho pensato che alla fine avrei dovuto scegliere una cosa e dedicarmi a quella cioè scegliere se volevo fare questa carriera e quindi buttare al 100% tutte le mie energie su questa cosa o se avessi voluto altro oltre alla carriera non sarebbe stato possibile oppure sarebbe stato di meno rispetto alla mia possibilità di procedere di approfondire le cose che mi piacevano avere davanti una persona in realtà più di una persona ma una in particolare che vedo avere fatto un percorso che include tante cose sicuramente è di aiuto e è molto incoraggiante purtroppo non sono tante al contrario ci sono state altre altre donne altre professoresse che invece hanno avuto un impatto anche molto negativo a volte ma in questo caso più che una questione di genere è una questione anche di età che io vedo che è un fattore molto più discriminante a volte che in un genere no non ho avuto alcun tipo di riferimento o modello è stata un'inclinazione personale avevo un pallino per la tecnologia della mobilità e in particolar modo per le automobili e ovviamente una grande passione per matematica fisica chimica e la tecnologia in generale una forte curiosità ed è per questo che ho deciso di iscrivermi a ingegneria meccanica e poi a ingegneria dell'autoveicolo uno dei modelli che mi ha spinto a scegliere le scienze e di cui fondamentalmente non parlo quasi mai è stata mia zia mia zia adorava la chimica lei si era iscritta a chimica dopo il liceo purtroppo però a causa di problemi familiari tra cui il fatto che il padre non voleva che studiasse chimica si era dovuta ritirare dagli studi però ha ricominciato quando era di nuovo grande cioè ha rifatto di nuovo gli esami da capo purtroppo mia zia però non è mai riuscita a finire a laurearsi in chimica perché è mancata a causa di un tumore quando io avevo 18 anni e questo questo evento è quello che mi ha fatto scegliere poi tra biotecnologie e chimica perché quando avevo durante il liceo ero indecisa tra chimica e biotecnologie ho scelto biotecnologie perché volevo andare nella ricerca sul cancro ovviamente ora faccio quasi tutt'altro è sempre un percorso a fine perché mi occupo di sviluppo dei farmaci di farmaci però diagnostici non per la cura del cancro però comunque devo la maggior parte e soprattutto la determinazione a lei perché davvero non è mai mollato anche quando gli altri dicevano di non farlo diciamo che la mia carriera cioè la mia carriera universitaria è stata un po' particolare perché io inizialmente ho iniziato appunto volendo fare medicina a tutti i costi dopodiché dopo non essere riuscita a superare il test l'ho presa veramente un po' in maniera fatalista quindi ho detto ok questo non è il mio percorso e mi sono buttata nell'ingegnere biomedica che poi ho scoperto essere esattamente il mio mondo perché mi ci sono ritrovata perfettamente amo la matematica amo la fisica amo la medicina e nell'ingegnere biomedica tutte queste cose sono in perfezione e diciamo che appunto questo mio amore per la medicina ha fatto sì che una delle persone che più mi ha influenzato e che comunque ho sempre tenuto nella mia mente come un esempio da seguire è stata Rita Levi Montalcini una donna che una donna grandiosa una donna che ha contribuito in una maniera significativa sia nel mondo da un punto di vista scientifico e non veramente una persona che è stata affamata di scienza in tutto il corso della sua vita e che ha dato la sua vita per questo lei si è dedicata interamente nel corso della sua vita alla scienza mettendola al primo posto e questo tra l'altro l'ha portata anche a vincere il premio Nobel per la medicina e la scoperta cioè questa cosa qua è stata incredibile perché oltre alla scoperta rivoluzionaria che ha fatto è stato proprio rivoluzionario quello che è successo perché è stata l'unica italiana a essere insegnita del Nobel della medicina e veramente è una donna incredibile che non solo si è impegnata in questo ambito ma che ha aiutato nell'arco della sua vita donne in difficoltà nei paesi in piedi sviluppo si è battuta per il diritto all'aborto si è ha portato avanti con tantissima determinazione tantissimo impegno campagne per l'emancipazione femminile quindi una donna che ha dedicato la sua intera vita lunga perché ha vissuto fino a 103 anni mi pare sia la scienza sia l'umanità veramente una donna che io ho sempre stimato tantissimo i miei maggiori punti di riferimento sono stati i miei insegnanti alcuni di loro ovviamente sia insegnanti di materie umanistiche che scientifiche tutti coloro che sono riusciti a trasmettermi amore per il sapere curiosità che hanno saputo coinvolgermi nelle loro lezioni che mi hanno trasmesso la passione che avevano per il loro lavoro e io ho iniziato l'università con l'intento di diventare un insegnante un insegnante diciamo come loro poi ecco negli anni ho cambiato idea ma questa è un'altra storia comunque il tipo di ispirazione rimane lo stesso la determinazione la voglia di perseguire i propri obiettivi rimane invece una figura famosa diciamo che mi è stata di riferimento è Miriam Mirzakani che è stata la prima donna a ricevere la medaglia Fils cosa è la medaglia Fils è un premio uno dei maggiori premi riconoscimenti in ambito matematico ed è spesso paragonato al premio Nobel che appunto non prevede la categoria matematica diciamo così allora questo premio viene dato ogni quattro anni a matematici sotto i 40 anni che si sono distinti nel loro campo e è un premio che è stato istituito nel 1936 e solamente adesso ecco nel 2014 è stato assegnato per la prima volta ad una donna e tra l'altro ecco lei la prima donna e la prima persona iraniana a ricevere questo premio ecco l'idea che una donna matematica sia arrivata così in alto è comunque un motivo di ispirazione di grande punto di riferimento per chi inizia a pensare di non voler di voler fare una carriera diversa dall'insegnamento studiando comunque matematica ecco lei purtroppo è venuta a mancare nel 2017 a causa di un tumore e in suo onore è stata istituita la giornata mondiale delle donne in matematica è fissata il 12 maggio giorno della sua nascita e l'intento di questa giornata che è stata istituita a partire dal 2019 è quello di cito testualmente ispirare le donne in tutto il mondo a celebrare i loro risultati in matematica e incoraggiare un ambiente di lavoro aperto accogliente e inclusivo per tutti persona un modello che mi ha influenzata come dicevo sin da piccolissima sono sempre stata fissata con la natura piante animali quindi dai sei anni in avanti all'incirca i miei modelli erano principalmente due potete ridere Mr. Crocodile Dundee e in particolar modo la paleobotanica la dottoressa Sattler interpretata da Laura Dern in Jurassic Park dovete immaginarmi a sette anni al cinema a vedere Jurassic Park per la prima volta il primo film che avessi mai visto al di fuori dai cartoni animati vista lei lei rappresentava tutto quello che volevo diventare da grande la passione che metteva nel suo lavoro tutti questi nomi scientifici di piante animali il fatto che si sporcasse le mani di terra anche di cacca nel suo caso ma è successo anche a me mi faceva sentire dire mi faceva sentire ecco voglio diventare così e per mia fortuna ancora non ho cambiato idea allora mi scuso anticipatamente perché potrei fare delle digressioni nei miei discorsi però mi dispiace ma è così ho cercato un attimo di farmi una scaletta ma vedremo dove ci porterà il cuore io non ho figure di riferimento contemporaneo al massimo mi succede se vengo a conoscenza di qualche donna che è nel contesto di astrofisica o di esplorazione spaziale mi succede appunto di andare a fare ricerche sul suo background culturale sociale sul suo curriculum se vuoi ma nulla più di questo una figura che invece ho sempre molto ammirato è Ipazia di Alessandria la filosofa del terzo secolo dopo Cristo ma penso questo dipende dal fatto che io ho fatto un liceo classico e sono sempre stata molto legata alla cultura greca e in qualche modo Ipazia rappresenta una scienziata antelitteram in un mondo in cui essere donne e essere ricordate non era per niente scontato che è stata sempre in qualche modo coerente con se stessa e con i suoi ideali e non lo so è una figura che mi ha sempre affascinato molto e che ho sempre amato moltissimo per me l'illuminazione è arrivata quando a 13 anni vidi in televisione un'intervista a Rita Levi Montalcini che poi diventò la mia eroina in assoluto raccontava il lavoro di una vita di come avesse messo anima e corpo al servizio della scienza e come le scoperte che fece ebbero un impatto poi sulla salute delle persone in quel momento capì che anch'io volevo lasciare la mia impronta nella vita altrui e magari fare scoperte che avrebbero cambiato l'esistenza di persone in difficoltà aiutare trovando cure o magari anche solo medicinali palliativi per chi ne ha più bisogno in particolare sono molto affezionata a quei soggetti affetti da malattie su cui molte aziende non non fanno ricerca perché è considerato un investimento a perdere no non ho mai avuto un modello di donna forte intraprendente che mi spingesse a intraprendere questa carriera universitaria che spero in un futuro possa effettivamente concretizzarsi in una carriera lavorativa nonostante però questa mancanza di riferimento ho sempre voluto fare fin da piccola questo lavoro quindi approcciarmi a questa scienza comunque ancora oggi poco conosciuta e poco presa in considerazione e mi ci sono appassionata banalmente grazie alle serie tv sia italiane che americane salvo poi ovviamente scoprire una volta arrivata all'università le enormi differenze che naturalmente esistono tra quello che è il romanzato la serie tv rispetto alla vita reale al lavoro reale e una cosa importante che ho scoperto appunto intraprendendo effettivamente questi studi è che anche volendo non avrei potuto avere un diciamo un un modello di donna importante all'interno delle scienze forensi perché molto banalmente ce ne sono pochissime e quelle poche che ci sono sono ai più sconosciuti e anche a me che ormai è anni che comunque studio e pratico in questo ambito infatti come ho detto prima già è di per sé poco conosciuto quindi immagino che se anche io non conosco determinati riferimenti è molto più probabile che anche altre persone che sono comunque profane del mestiere non li conoscano un altro esempio può essere il semplice fatto che nella mia facoltà ci sono pochissimi professori donne ma una cosa che mi fa ben sperare è che al contrario ci sono molti assistenti donne ragazze di poco più grandi di me che quindi fa sperare in un futuro in cui il ruolo delle donne all'interno delle scienze forensi sia più preponderante che non sia più considerata una materia come tante altre scienze da uomini infatti anche ad esempio nel mio stesso corso di laurea siamo molte molte ragazze in ogni caso nonostante la mancanza di questo modello fin da quando ero piccola ho scoperto recentemente una figura di una donna importante però come detto prima molto sconosciuta infatti ne sono venuta al corrente molto molto tardi nella mia carriera universitaria ed è la figura di Francis Glessner Lee che è considerata almeno in America la madre delle scienze forensi e di cui non si parla e questa cosa l'ho trovata abbastanza scioccante perché veramente è una donna che ha fatto del suo ruolo in cui era stata relegata in quanto donna ovvero accudimento della casa ne ha fatto una professione infatti lei dovendo restare appunto chiusa in casa occuparsi di tutto quel mondo che solitamente viene associato al ruolo della donna nella società durante questo periodo ha iniziato a sviluppare una passione per le case delle bambole ma per case delle bambole intendo quelle molto grandi molto sfarzose e da lì dopo aver raggiunto questa passione dell'arredamento di case di bambole eppur avendo una passione a Cotè che è sempre stata la passione per le scienze forensi in particolar modo la medicina legale ha cercato ed è riuscita a trasformare quella che era una passione considerata frivola e di dominio pubblico delle donne di dominio delle donne in una professione ha infatti reso quelle case delle bambole dei veri e propri diorami rappresentanti le scene del crimine di accadimenti della sua epoca e questi diorami sono tuttora utilizzati in corsi di scienze criminali in America per insegnare ai ragazzi che come me stanno studiando questo stanno intraprendendo questo percorso effettivamente come indagare su una scena del crimine cosa cercare dove cercare e l'ho trovato molto interessante ma ripeto mi ha molto stupefatto che che non se ne parlasse mentre si parla magari di contributi molto meno importanti però fatti da uomini e gli si viene data una rilevanza maggiore in realtà non ho avuto nessun modello dal quale ho preso spunto o al quale mi sono ispirata per fare il lavoro che ho poi scelto di fare quando fin da quando ero bambina mi sono comunque sempre piaciute di più le materie scientifiche rispetto alle materie umanistiche in qualche modo mi sentivo anche più portata per queste materie quando è stato il momento di scegliere che università fare la mia scelta era andata su medicina perché mi piaceva l'idea di poter aiutare le persone poi a medicina non sono entrata e quindi ho deciso di fare farmacia perché mi sembrava la cosa più simile all'interno del campo sanitario che mi permettesse di fare quello che era la mia idea di aiuto delle persone non ho avuto una scienziata o un modello che mi abbiano ispirata per seguire questo campo di studi però essendo sempre stata una cosa che mi piaceva sia l'informatica che le scienze in generale non non ne sentivo il bisogno quando sono arrivata all'università dopo aver finito le scuole superiori sì ho cominciato a sentirne il bisogno perché diciamo che si notava tanto di più la disparità di genere e soprattutto anche le cose che si studiavano venivano sempre attribuite a tanti uomini poi studiando per conto mio interessandomene scopri che dietro a tantissimi progetti c'erano anche tante donne le quali venivano completamente dimenticate quindi sì diciamo che durante l'università avrei preferito avere dei modelli da seguire e avrei preferito anche più rappresentazione delle donne nei nel corpo docenti ecco come insegnanti allora per quanto riguarda la persona o il modello che mi ha ispirato diciamo che questa è una domanda complicata perché a livello familiare non c'è nessuno che abbia perseguito una carriera scientifica a scuola non ho avuto particolari mentori personalmente diciamo una grande parte l'hanno avuta alle opere di fantasia quindi di libri fumetti eccetera però devo essere sincera che è una cosa che secondo me serve cioè una mancanza che ho sentito la mancanza di una figura concreta vicina con cui confrontarmi soprattutto negli anni di liceo dell'università eccetera perché magari avevo bisogno di qualcuno che stava tra piccolette passando quello che stavo passando io e quindi sarebbe stato utile avere qualcuno da cui andare con cui confrontarsi e da cui ricevere consigli sì mi è mancato un riferimento a scuola non ho mai sentito collegare il nome di una donna ad una qualsiasi materia scientifica poi se vogliamo proprio essere puntigliosi sicuramente sì la televisione mi avrà mostrato qualche modello di donna in campo scientifico ma comunque stiamo parlando di un numero che si può contare sulle dita di una mano quindi diciamo che non è esattamente il massimo niente questa prima puntata dedicata alle ragazze nei campi STEM finisce qua io spero che questa prima puntata introduttiva sia stata molto utile interessante sia per avviscerarne un po' le prime cause insomma il mio pippone quello dove vi espongo i dati eccetera eccetera che portano ad una mancanza di rappresentazione di ragazze nei campi scientifici un po' lo stato attuale delle cose le rilevazioni eccetera eccetera e le principali problematiche ma soprattutto insomma passare la parola alle ragazze che i campi scientifici li vivono tutti i giorni nella loro quotidianeità niente io sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate di questo progetto intanto di questa prima parte e poi sentiremo nelle prossime settimane altre tematiche nelle quali verranno coinvolte ovviamente le ragazze io intanto le ringrazio di cuore perché hanno davvero fatto qualcosa di davvero prezioso donandomi anche il loro tempo e le loro risposte e insomma io voglio sapere anche da voi quello che pensate come vi è sembrata questa prima puntata quindi noi ci sentiamo giù nei commenti se vi fa piacere e se vi va di continuare questo viaggio questo progetto ci vediamo la prossima settimana su questi schermi quindi insomma per chiacchierare insieme ci sentiamo giù per tutto il resto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao